e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di free time mi trovo nuovamente con siamo qui per cercare di esplorare un luogo che sarebbe proprio quello in cui ho fatto l'esplorazione notturna non so perchè, non so come ma mi veniva di farlo forse per farmi vedere cosa c'è di bello e quindi vediamo anche un po' l'atmosfera del giorno anche se si sarà più inquietante di notte lì ma l'area non è solo quella è quella che si può vedere adesso ci prodighiamo ad entrare ok, siamo qua dentro per me è una specie di déjà vu qua dentro si sa che così quanta roba cosa? quanta roba c'è dentro si ma sono solo cialfusaglie ecco qua poi io qua avevo già visto che non si poteva entrare davvero? eh lì no e qui non c'è ingresso la prossima sera che vieni qua invitami ma perchè ci sono sempre giocate in questi posti guarda dalle racchette al tennis oh dei vecchi libri un dadone vecchi libri? si non mi dico che sono molto moderni sai che se li vendi quanto ci guadagni? non è proprio il mio primo pensiero capirai no? si è un commento per dire la bellezza si valgono valgono ma se voi calcolate che ci sono stato di notte non di sera qua un po' di emozione ci stava ma per forza ecco il grosso baraccone la ripresa è singola oggi non c'è così tanto esplorare che c'è bisogno due videocamere dobbiamo stare attenti mortacci nostri va bene dai io ho visto questo di sera ho sentito il rumore ho sentito gli ormoni anche grazie madonna ok eeeh questo non è mai successo si ricordavo quel vestito bianco wow sono molto piccati eh per me fa molto impiccato eeeh c'è sì no ti parla dove stiamo facendo un giro No, no, tranquillo, non potete essere qui. No, niente, non stiamo facendo praticamente niente. Un giretto? Sì. Un giretto tranquillo? Sì, sì. Vabbè, grazie. Sono stato fortunato che l'ho vista tutta io. Che facciamo? Saluti in arrivo. Cosa posso dire? Non ci è mai successo di incontrare qualcuno dentro un'esplorazione urbex. Prima casca in albero. Prima casca in albero, poi... Poi uno ci parla. Da lì che ovviamente ce ne siamo andati via perché comunque sia vedrete tante... Cioè, l'esplorazione di notte che è molto inquietante. Voi per quanto riguarda i video potrete vedere tutto quello che c'era nel video dell'esplorazione notturna in questa che è diurna, no? Però è successo qualcosa di più speciale. Speciale. Ma il cazzo di albero? Però è un peccato che il fatto che non l'ho vista vivo anche, poi se lo vedo nel video non è un problema. Tanto ci saranno molte altre esplorazioni da fare. Sì. Infatti. Sì, sì. Stiamo tenendo il bello per ultimo, eh? Oh, sì. Ok, qui il video può finire. Secondo me... Io ci sono tornato per la terza volta qui. Uno per il sopralluogo, uno per l'esplorazione notturna, uno stavolta. Luogo sempre emozionante. E per te? Ma diciamo che dall'esterno è carino. Purtroppo non ho visto l'interno, però, beh, pazienza. E' stato carino in un certo senso. Quindi un saluto dal vostro Free Time Joe e da Temace, da Ali. Ci vediamo al prossimo video di qualunque genere. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao belli. Ciao belli. Ciao belli. Ciao belli.